Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, è al centro dell'attenzione in questa edizione di Ballando con le stelle. Ogni settimana si trova ad affrontare la giuria con grande determinazione, passando da un atteggiamento pacifico a uno più aggressivo in un batter d'occhio. Nell'ultima puntata ha rivelato il cambiamento nelle relazioni dopo la fine del matrimonio. Ora che sono sola, il modo in cui la gente mi tratta è diverso. Prima, anche se non ero bella, mi accettavano perché ero accanto a qualcuno che interessava loro. Ora, se non sono perfetta, non mi considerano più. Queste parole hanno scatenato le accuse di Marco Salvati, ex autore di Paolo Bonolis, che ha dichiarato che Sonia lo ha costretto a lasciare un programma televisivo. In risposta, Sonia ha citato Charles Bukowski su Instagram, sottolineando l'importanza del silenzio. La situazione è tesa e resta da vedere come si evolverà. La Bruganelli si è difesa con eleganza, ma la polemica potrebbe non essere ancora finita. Restate sintonizzati per scoprire cosa succederà prossimamente. Grazie.